sul capodine non torno più sul capodine non torno più anche perché a parte che l'ho salito per cui sono stato in cima e per me è vetta e senza ossigeno poi ritornare sulla montagna mai più perché è stata clemente con me è stata gentile perché mi ha risparmiato mi ha veramente non mi ha tolto la vita però con gli altri è stata spietata a mentalmente soprattutto ti devasta al capodù è stata una cosa una cosa bestiale a a a a a a a a Sous-titrage ST' 501 Siamo arrivati a Doha, Qatar, io e Marco, finalmente siamo partiti per questo grosso obiettivo, il K2, ecco qua, sono con Marco, i due più suonanti a sinistri, ci siamo proprio trovati bene. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partiamo adesso da Ascole e per un po' di giorni dall'ultimo villaggio. Sous-titrage ST' 501 Siamo Concordia, stiamo partendo per andare verso il campo base, nel fondo il K2. Eccoci arrivati al campo base, è stupendo. Ecco tutti i nostri porter che stamattina hanno portato tutto il materiale al campo base e adesso se ne vanno e tornano a Ascole. Non ho paura di stare da solo e ti isoli un po' nel tuo mondo che è la nostra montagna. Dopo logicamente ero con Roberto e con tanti altri ragazzi perché eravamo in tanti al K2. Un po' eravamo tanti ma eravamo soli nei nostri pensieri perché io ero solo nei miei pensieri. Eccolo qua, di fronte a noi. Siamo al K2. Siamo al campo 1, siamo arrivati mezz'oletta fa, abbiamo incontrato delle bellissime persone coreane che ci hanno dato del tè buonissimo, del caffè. Siamo in compagnia di ragazzi coreani, tra le quali c'è una ragazza che era a lozze proprio quest'anno. Se voglio andare insomma, se sono molto forte, non sa che tornavo indietro. Ormai sono 12 giorni che siamo al campo base e è un'alternanza tra bel tempo, brutto tempo. Adesso per due o tre giorni il tempo è così purtroppo e tendiamo che il tempo si stabilisca per appunto salire, provare a salire sul K2. Nel frattempo abbiamo conosciuto parecchia gente qua al campo base, coreani, olandesi, serbi, per cui è nata anche una bella situazione qua al campo e cercheremo di collaborare appunto per la salita. Siamo arrivati qua al campo base e pensavamo che fosse facile quest'anno. Dicono con la pazienza, sarà ripagata per cui. Io purtroppo lo leggo pochissimo, ascolto più musica, però se passava così il tempo. Siamo arrivati qua al pomeriggio? Quale giorno? 28. 28. 28. 28. 28. Militato. 19. Linei. Poi? Poi che riesco a fare Angella, perché la ricetta è soddisf LSAT ogni giorno Durch la cambiata nonprofits per un giorno böyle imporato da camp della scéarra. And another concern is getting from camp 3 to camp 4. Nobody has been up recently. How deep is the snow? Is it very difficult? Maybe it will take a long, long time. Maybe it will take people on oxygen. Maybe it will take 20 people to break trail. Is the problem? Because Summit 1 August, no oxygen. Many people, no oxygen. It's cold. It's difficult, eh? In these meetings we have done 7, just to be able to unite the forces, to be able to see the predictions, to be able to coincide, to confront. Wilco! We have our, I mean, there's a... weather change, 31st. Who told you? A flying flying news. Rumor, rumor. I have to study it, but I want to wait to see what it's going to be tomorrow. Or today. Because yesterday, it seems, that the weather is moving more slowly. Slightly. 31st is okay for Summit. Yeah. Just okay. Just okay. But maybe, we're going to the first. Because the first, now, looks just a little bit better. I've always told everyone that the most important thing was not at the top of the K2, but it was life. And if we wanted to go at the top of the K2, since I was already in 2004, with the expedition of Agostino Polenza, we had to decide to unite the forces, otherwise we wouldn't be able to go at the top of the K2. Because I knew what was the K2. Even Wilco, I knew it. Even Wilco, I knew it. Even Wilco was already in the K2. Here it is. Even this morning, it is covered. There is wind in water. And from the base field, you can see the K2, which is this. This rock. is a jump of rock. There is the K2. And just up there, there is the K2. He is getting hit somewhere. Thank you very much. Thank you very much. Bye, see you. Thank you. Bye, bye. We were in just a few days. Because from the Alpinists who wanted to go to the K2, we were maybe 25. to the K2. See you again. We are in K3. We are at K3. Finally the wind has closed. We are going towards K4. Siamo al campo 4, 7.900 metri, la giornata è molto bella, sono molto contento. Domani vedremo la bottiglia, il troverso e poi la cima di tutto il bene, se Dio ti aiuterà, mi sceglierà. Finalmente vedere la persona morire lì in quel punto, a quelle quote non è semplice. Sono a 8.000 metri, ma vedete dietro a me c'è il seraco, il controverso. E' più difficile rinunciare che andare avanti. Roberto è rinunciato perché non stava bene, aveva vomito, marcollava, per cui quei sintomi lì possono essere sintomi di demona celebrale. E a quelle quote lì, sul K2 specialmente, che è una montagna difficile, fino a arrivare alla base, bisogna scendere, altrimenti lì si muore. È precipitato il serbo, che probabilmente è precipitato di fianco a me, due metri e mezzo, più o meno sulla sinistra, al collo di bottiglia, col punto più stretto, è precipitato. Non so perché ha precipitato, io credo che sia staccato dalla corda fisica, c'era già giù, penso a superare una ragazza, si sono toccati, è precipitato. Ho partito da questo coluar, e adesso è fermo qua sotto, il puntino è staccato. So it's Gamba, Searing, Marcos, and Korean group going up. E abbiamo saputo stamattina che Marco e Wilco hanno bivaccato 8200, credo per una slavina che ha portato via le corde fisse. Mi ha comunicato appunto che è meglio che scenda per comunicare con Marco. La discesa è stata drammatica, quello è il punto preciso dove per tre ore e mezza io e Jesus abbiamo cercato di aiutare queste tre persone in difficoltà, sopra il traverso, dopo che noi abbiamo fatto il bivacco fuori. E dove dopo Jesus mi ha abbandonato e è salito sopra. Poi ho lasciato chiamarlo, non rispondeva, e mi sono trovato con questa persona che dovevo calare e vabbè, ho continuato da solo. Quando ero sotto, il colgo di bottiglia, è precipitato di una valanga, è scoppiato lì sul traverso, è stata una cosa... Sembra un incubo, sembra veramente un incubo. Speriamo finisca in fretta. Marco, quando puoi chiamami, sono qua al campo base. Aspetto tue notizie. Forza, dai. Sai che ce l'abbiamo quasi fatta? Marco, tieni duro, eh? Ti sto aspettando. Dammi tue notizie appena puoi. I speak this morning with Marco. I speak early this morning I speak. No, Ken. Is there police on the hold? Yeah. I am here, I am Roberto, ok? Speak my friend because I don't understand nothing in English, ok? He's coming. It's a bit of a breath, but it's ok. Yay, grazie. Torni a scalare. Certo. Torni sul K2. No. Mai più sul K2. Mai più, assolutamente. E' stato clemente con me perché mi ha lasciato il dono più grande che ho, che è la vita. Perché con me è veramente stato clemente, perché se guardiamo insieme delle cose che sono successe, con me è stato gentile. Però è anche vero che, come già da una volta, io ho lottato per termine la mia vita, come il leone. No, non, non. No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.